Eccoci tornare su ARK, oggi siamo su Amissa, praticamente una nuova mappa moddata che ancora non avevamo provato, ma con una delle mod premium, ovvero ARKomica. Ah, c'ho un buff tipo... non lo so, tipo un nuovo nabbo o qualcosa del genere, cioè... what? Ok? Questa sembra... mi dà le cose? Aspetta un attimo, fammi capire. Ah, più 200% DEXP, 89% DR, non so che roba, eh. Ah, ma mi ha dato le cose. Ma in realtà grazie, cioè, apprezzo. C'è anche il cannocchiale proprio della mod, particolare. Ho messo anche l'automlocker giusto per comodità, più che altro. A parte questo, poi, a fine episodio, vi faccio vedere un attimino per quanto riguarda le mod che ci ho messo. Ci ho messo fondamentalmente tutta roba decorativa, perché comunque ARKomica va ad aggiungere, vi faccio anche vedere, c'è anche l'Omega DEX, praticamente. Allora, ci sono praticamente un sacco di creature, ok? E a parte questo, sbagliati i boss, equipaggiamenti... Ragazzi, non so veramente, è una quantità a dir poco esagerata, c'è un casino di roba, ok? Vi faccio vedere anche la guida per quanto riguarda la progressione in gioco. E nulla, a parte questo... Ci sono pure i miracoli, incredibile. E qua c'è anche roba unica che, onestamente, non ci sto a capire molto, ma probabilmente lo capiremo insieme, pian piano. E poi praticamente qui vi fa vedere anche, diciamo, per quanto riguarda le varie creature. Ad esempio, Tiers 1, Basic, Delta, Gamma, Alpha, Elite, Prime, Apex, Ultimate, Ancient, Endless, Omega. Mamma mia, quanta roba c'è. Poi su quelli cosmici, Supernova, Meteora, Starfire, Singolarità, Antimateria, tipo... Gamma Ray, Cometa, Elementali. Mamma mia, raga, ma c'è una quantità di roba esagerata, comunque. What? Overseer? Um, ok. Diciamo che ci sono cose. Ci sono anche quelli fortunati, questi probabilmente non ne vedo mezzo. Proprio perché, o diciamo la parola, sono fortunati, vabbè. A parte questo, c'è un livellino in realtà 3, c'è un stat dexp così, a casissimo. Io vado ad aumentare un po' il peso. E il problema ora è soltanto, recupera un po' De pelle. Tra l'altro, veramente carino come punto de spawn. Questo è uno dei 3 punti de spawn, sono uno facile, uno medio e uno difficile. Quindi nulla, fondamentalmente, sono spawnato in quello facile. La raccolta, il taming, l'expo, ho messo tutto quanto per 5. E nulla, raga, a parte questo, cerchiamo della... E de pietra. Ma che c'è? Non credo di poterlo killà, sinceramente, devo aspettare a trovare un dote. Allora, tartaruga supernova, potrei colpirla, però sinceramente non sa che va a finire male, ma è che mi sto fermo. Preferisco andare verso il mare. Sto andando verso il mare, spero di sì. E vede, insomma, più che altro si riesca a trovare un paio di dote sulla spiaggia, perché almeno così ci possiamo fare un po' di pelle, no? Allora, tra l'altro ho messo anche la mod delle zattere, anche se in realtà c'è anche questa qui. C'ha il doppio dello speed, è più facile da controllare, però in realtà ci ho messo... Oh cavolo, qua scoppia roba. La mod della zattere praticamente fa mettere fino a 180 pezzi, quindi si può fare un attimino più grande. Quindi non so effettivamente... Ah, ma è tranquillo però. E lui? Come sta? È tutto a posto? Eh, è tutta fiera lei che cammina sul tricerato un po' clonato? Ma che cavolo? Ok, particolare. Ma che cavolo? Eh, ma non c'è nulla dentro, scusa. Ma è un piccone accetto... Cioè fa tutte e due le cose, praticamente. Comunque credo sia una casetta proprio degli NPC. Ah, ok, la cassetta c'era. Aspita, quanta roba. No! Mi è scomparsa, c'erano le torte di verdure. Non ce lo credo. Non è giusto però. Aspita che botta da lag. Dai però! Ma che cavolo? Qui c'è un'altra cosa, tipo... Eh, però c'è un sacco di roba dentro a ste casette, tipo. L'unica cosa credo che vadano tolte. Per l'altro non ho capito, c'è una scomparsa la cassa. Ma che cavolo? Vabbè. A parte questo non lo vediamo un attimo se riusciamo a recuperare un dodo. Che purtroppo è senza pelle, non si fa nulla. Un po' di roba in realtà ce l'ho. Bevanda curativa che comunque fa comodo. La carne va a domestica, un po' di fiori rari, un po' di miele. E in realtà ha un po' di cosine nel senso. Grazie, si apprezzano. Anche se è strano che l'NPC non ci ha attaccato, la verità. Va capì? In teoria dovrebbero attaccarci. Tipo là ci sono dei numeri. Però che cavolo di creature sono, va capì? Eh, mamma mia, ha fatto una fine proprio brutta quello. È resistente sto dire. Cioè c'è proprio scritto resistente. Non la vedo troppo buona come situazione. A parte con una gamma strale, cose strane. Lasciamo sta, per favore. Ma che boldimis! No, vabbè, oh. Aspetta un attimo, parliamo. Sì, ma sono omisso. E che gli faccio? Gli canto i barzellette? Ce l'ho capito. No, non mi attacca. Non mi attacca. Fatti i fatti tuoi. Ti prego, no, ti prego, no, ti prego, no. Va via, va via, va via, va via. Finito male. Ottimo. Però uno l'avevo addormentato. Pregolto questo è gamma strale di Lofosauro. Cosa strana. Ah, vabbè, mi hai riportato qua. Ok. E... Continuo a mettere peso, sinceramente. Devo capire soltanto dove sono morto, di là. Qui che altro, forse per assurdo, questo bonus qui. De 10.000 secondi. Forse è un po' otto match. C'è un senso da dare il doppio dex per una vita e mezzo, praticamente. La clava purtroppo a dovrei riparare, però. Ecco, magari anche metto un po' di danno da mischia, poteva essere l'idea. Più che altro, o quei dillo che abbiamo addormentato, non lo so. Si potrebbero anche provare a domesticare. Giusto proprio qualcosina in caso. Poi c'è un villaggio, però vorrei farmi i fatti miei. Meglio come faccio i fatti miei, non si sa mai. Perché sono senza armatura, senza niente. Meglio evitare. Ma che cavolo. Ma sto coso raccoglie tutto. Guarda quanta cavolo di roba ha messo. E... Ok. Cioè nel senso... Raccoglie un casino, raga. Ma veramente un casino. Cioè con questo qui fai anche le bacche, fai tutto. Là c'è un tricerato un po' strano, però. Forse a me sono la scimpace, così a occhio e croce. Più che altro vorrei recuperare i dillo. O almeno a pelle. Posso fare tipo una lancia o qualcosa del genere. Tipo questa qui riutilizzabile già. Potrebbe essere utile. Faccio anche la bola. No, perché in realtà se riesco a immobilizzare i dillo, poi diventa... Perché c'ha quell'aura strana quella? Che cavolo. Ha fatto una fine brutta comunque. Guarda quanti sacchetti è giro. Ma è mortale? Che caspita di dillo è? No, raga, è rotto. Cioè per un attimo è diventato posforescente e mortale. No, ma tocca. Per l'amore del cielo. Premi la dita. Ma che caspita di dillo è? Questo vorrei domesticarla più che altro, la verità. Questo me lo piglio. Questa roba pure. Tocca a fare attenzione alle spalle. Ma è grazie. Questo è resistente. Eh, purtroppo però mi serve la pelle. Peccato. Mi dispiace dillo. Mi sarebbe piaciuto addomesticarti però. Quella strada però se riesco ad addormentarlo non lo so. Col fatto c'ha 3000 di vita. C'è un senso. No, che vuole questa mia? Non ti avvicinare. Chissà di domesticarla in passivo oppure no? In passivo, ok. Che ti mangi? Miele. Ah, guarda. Eh, ce l'ho. Però sta arrivando anche il deal. Dov'è non killarla? Eh, niente. Addio. Ma io di sé riesco ad addormentarlo, addio. Ah, si mangia gamma. Et real keyboard. Uniche keyboard. No, vabbè. Non posso. Peccato. Deve essere abbastanza incredibile prendere un deal o vuotermi la vita all'inizio. A parte che si è refullato. Ma che cavolo? Ma quello che ho avuto l'impressione mia è troppo grande. No, no, no. No, no. Ti prego, ti prego, ti prego. No, no, no. Va via, va via. Bola, ti prego. Funziona. C'è troppa roba. È scomparso. Sto di lo citta, comunque. Chissà se c'è troppa tipo roba particolare, però. Col fatto che è astrale. E infatti c'è andata roba strana. Vediamo un po'. Allora, magari sti pezzi qui me li metto un attimino. Oppure i guanti, no, non mi servono. Questo qui posso buttare. Etreal, etreal, soul. Si usa per fare le crocchette, equipaggiamento e pozioni. È senza gamma. A parte questo, vorrei continuare a mettere i livelli in peso, perché purtroppo ho sto mondo qui veramente di trasportare una quantità di roba esagerata. Qua al massimo si resettano più avanti, fa niente. Un po' di petrolio. Ovetto di Delta Guardian. Non so cos'è un Delta Guardian, ma a prezzo comunque. Alana non mi interessa. Qua che c'è da bello. L'elmetto manca. Tutta sta roba si piglia. Questo non ci interessa. Ma un po' di roba comunque si è recuperata, dai. Ma c'è un tizio sull'Optero. No, ragazzi, c'è un tizio sull'Optero. Cioè l'NPC sta cavalcando un Optero. È un Optero d'Ossidiana, po'. Ma che caspita è un Optero d'Ossidiana? Resource, Gable, Unique, Gable. Ma che cavolo? Vabbè, non credo si offenderà, ma io mi prenderei un po' di roba sua, tipo. Spaccavo un attimo qui. La cassetta però non ce l'ho fregato. No, perché comunque bene o male, spesso e volentieri, ci hanno comunque cosini utili, ecco. Poveri NPC avranno una vita dura su sta mod, cioè ci sono creatori che veramente sono rottissime. C'è tipo il Dilo con 3000 di vita. C'è il Dilo. Ma che cavolo. Anche la cassettina, caspita quanta roba non la riuscirò mai a trasportare. Invece sì, incredibile. Qua si può togliere. Ok. E direi che è il caso di farci tipo una zattra, perché se no qua anzi trasporto un cavolo. Paccato che non lo posso addomesticarsi nel PC, cioè poteva essere veramente interessante come cosa. Purtroppo non esce l'opzione, perché sta cavalcando l'opter. Però dice che è domesticabile in passivo, non lo so. Ma capì. Devo provare con uno, insomma, che sta a giro. Allora c'è un'altra struttura, fammi dare un attimo un'occhiata. Qua mi sa che non c'è proprio un cavolo, comunque. A parte che... Questo credo sia tipo il centro del villaggio, perché c'ha decimila di vita. C'è nel senso... Lo lascio in pace, perché se no... Non finiremo, tipo, mai... De spaccarlo. Posso fare tipo a zatter, vediamo un po'. Manca un po' di legno, però non è un problema. Ecco, quelle esplosioni però possono essere un problema. Soprattutto se si avvicinano... Non è proprio fantastica come cosa. La verità. Allora, raft, raft. Da una parte è meglio quella moddata, perché c'ha comunque l'inventario. Però se sta a betta e raft, secondo me, mi è un attimino più comoda. Ma per il semplice fatto che ci posso piazza più roba sopra, quindi... Ce la possiamo fare un po' più grande, ecco. Forse è un attimo meglio, almeno per l'inizio, no? Poi appena possiamo volare, vediamo in che zona stabilirci. Comunque l'exp sale un casino, un po' per le zattere. Perché già le zattere, comunque, danno un sacco d'exp. Poi con questo potenziamento che abbiamo in basso a destra della mod, che è per tipo 10.000 secondi... Se da il doppio dell'exp, è veramente rotta, come cosa. Strano triceratopo... Gamma singolarità triceratopo... Gamma cosmic kibble... Nightmare kibble... Non lo so, ragazzi, qua c'è veramente... Una vagonata di roba tra crocchette e cose particolari, nel senso. Eh, purtroppo, questo qui è il nuovo sfia. A parte che è gigante, ma quant'è? Mi piacerebbe provare a killarlo, però, insomma, va a finire. Qua c'è un altro in the PC. Aspetta, ero, fenice, beta, ma... Gamma, scusate, cioè, ma che cavolo... What? Ok. Abbastanza strano, però va bene. Vado a lasciare un attimo a zattare in mare, perché sennò qua non ci spostavo più. È strano, però, che comunque gli NPC non attacchino. Cioè, nel senso... L'avevo provata sta mod sul primo arc... Ma gli NPC effettivamente li attaccavano. Quindi... Ma, va a capire. Allora, grande così ci servono soltanto un po' di fondamenta. Un po' tante, in realtà. Facciamo che cominci a farle in paglia e poi le sostituisco. Ma sembra un attimo... A situazione... A soluzione ideale. Tipo una centrale. Questa viene qui. Lo vedete soltanto se me le fa mettere anche attorno e poi davanti e dietro ci mettiamo i soffitti. Ok. Può funzionare. Devo solo recuperare un altro po' di roba. Ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, ci siamo. Ho praticamente fatto una fondamenta con il letto, però... Non lo abbiamo fatto riprendere il letto. Quindi dobbiamo soltanto ricraftarne uno. Può metterlo sulla zattera. Però in linea massima non è gigante. È abbastanza piccina, però comunque... Per iniziare ci può essere anche comoda. Mi manca la pelle. Spero che c'è un po' di pelle là dentro, perché sennò abbiamo un problema. Anche se... Tu quanta vita hai? Scusa. Eh, caspita. C'è provo. Spero che va giù. 18 secondi, sì, ce la faccio da. Perché ha preso fuoco? Ehm, ok. No, voi state calmi, per favore. Con calma, per favore. State tranquilli. Allora, non è proprio gigante, però dai. Finizia, almeno è una base mobile praticamente. Ci possiamo spostare un attimo più tranquillamente. Allora, ma manca giusto uno di questi qui. Olè. Poi, visto che comunque su Azat la capita che per diametino, per tenerli fermi, ci facciamo le 5 post, così praticamente nulla. Se lega, no. No, non si può piazzare sulla piattaforma. Che fredatura. Quello però cammino. Aspettate un attimo. Voglio vedere se mangia. Mangi? Non ci credo. Ho addomesticato un tizio con l'arco. Ci salgo la sua Azat. Mi sa che devo fare delle rampe. Rampe, rampe. Fammene due. E mi fai anche un letto, per favore. Che me manca? Ok, nudo. Voglio tenere un attivino se può fare roba. What? Ah, ho posso andare pure a raccogliere roba. Comodo. Non c'è un caspita di peso. Non so quanta roba può trasportare, però... Ehi. Può essere comunque carina come cosa. Perché c'ho il milino? What? Ok, strano. No, tu devi stare calmo. Aspetta un attimo ora che ti faccio salire. Fammi fare un attimo la rampa, però. Ah, devo fare questo all'altro lato. Ah, farei tipo così, avrei. Forse è un attimo più comoda. Assurdo. Allora, un attimino. C'ha pure la retromarcia. Ma che meraviglia. Ma rendo conto che non è gigante. Però... Ci potrebbe anche stare. Ora speriamo soltanto che lui abbastanza furbo Deve riuscire a salire. Perché io ho qualche dubbio. In realtà ce l'ho. Distanza minimo. E distanza minimo. Vediamo se ce la fa salire. Mamma mia, sei veramente l'NPC più intelligente che abbia mai visto. Teniamo a mente, non sto scherzando. Allora, il lettino ci piazziamo di qua. Anche se qua potrei fare pure una specie di... Due per uno. Per chiudere sto pezzo qui, no? Vado a me vedere un attimo. Quattro livelli metteremo un po' di tempo. Perché a volte qua ci sono meno due gradi. Cioè, è stranissimo tipo. Però... Vabbè. Allora, è tipo qualcosa del genere. Che si chiude da qua, no? Poi ci mettiamo la porta. La metto dietro. Ma sai che è più comodo qui. Ma, assurdo. Ci può anche stare. E poi ci abbiamo le cassette da qua. Se sale da entrambi i lati. Tutto sommato non ci è andata proprio male. Allora. Lascio tutta sta roba qua dentro. Ma servirebbe soltanto il mortaio. Lo fa un po' del narcotico. E poi ci servirebbe il bancone dell'Omega. Vediamo un po'. Più che altro per vedere se magari dentro ci sono dei progetti che, insomma... Non vanno sbloccati, ma sono semplicemente là dentro. Tocca solo capito dove infila sto coso. Facciamo cosa lo lascio qua dietro. E effettivamente c'è un casino di roba. Pietra infinita. What? Praticamente puoi piazzare sta pietra dentro l'inventario di tondini e quello non si muove più. Storage dimensionale. Soul compressor. Saddle armor. Cioè c'è un casino di roba, raga. Early set token. Ma che è sta roba? Cioè c'è un casino di roba. Mamma mia, raga. Non so veramente da dove inizio. Usa questa per ottenere 100%. Magic find per 90 secondi. Alpha essence. Lucky soul. What? Totem unico. Immortality potion. Ti rende immortale per 15 secondi. Quello probabilmente per i boss fight per non essere one shottati. Get away orb. What? Ah, praticamente con questo si evoca una spiritual mount. Una spiritual mount. Ma che cavolo. No, raga. C'è veramente un casino di roba. Omega item fragmenter. Mamma mia, quanta caspita da roba che c'è. Ci sono addirittura i dardi che curano i dino. E poi ci sono anche le pozioni curative. Gamma, per esempio. Delta. Cavoli. Ad esempio, come sedativo di base. Si fa questo qui. Ci serve comunque il narcotico. Quindi inizierei comunque a craftare. Tipo. Questo qui. Ecco. Potresti anche killarlo quel coso. Ora impazzisce. Ma ti posso mettere il modello da torretto, tipo. Ok. Cioè, mi faccio divana. Avevo gli arcieri. Può essere una cosa epica. A parte che non lo piglio a mezza volta. Cioè, c'è una mira veramente vergognosa. Tu vorrei di niente. Però vabbè. Voglio vedere un attimino se riesco a trovare tipo un parasauro. Qualcosina del genere. Perché almeno. Può fare un po' di bacche. No. Più che altro perché comunque ci servono. Può fare il narcotico di base. E poi. Andare successivamente avanti. Da quello che spero di aver capito. Anche se. What? Raga, ma ha fatto robe. Ok. Non posso neanche ci ha visuale. Questo po' lo si può togliere da mezzo. Tanto è tranquillo. C'è una quantità di ricerche da quella davanti. Se ne attacco uno. Qua va a finire. Veramente male. Più che altro. Quello lì mi aveva dato sta basic essenza. Praticamente si ottiene dal basic tier. Ok. Non so se mi conviene già questo candocchiale. Ah, è il candocchiale che non è da sto mirino. Ok. Tipo questo qui. Questa è gamma. Questa è astrale. Non lo so se sono tier de base. Tocca un attimino. Capì anche. Quali sono i tier de base. Perché nella categoria tier de base. In realtà ci sono più tier. Quindi. È un attimo tragico. Questo è de metallo. Che cavolo. E non lo posso neanche volare. What? Ma lui fa metallo. Cioè nel senso. Qualcosa lì ha fatto 213. Ma è meglio che mi faccio i fatti miei forse. Poi c'è il sacchettino. Poi c'è il sacchettino. Però sono pure curioso. Ah, è degli NPC questo. In realtà no. Però se riesco a toglierti da mezzo. Magari mi dai. Ste sense basic. Infatti. Grande così. Che fa questo? Questo. Vabbè ma la porta a casa. Cioè nel senso. Almeno così abbiamo quello con l'arco. E questa è una bolla. Può essere anche abbastanza incredibile. C'è l'optero fantasma. Alla davanti. Non so se vi sopra mezzo frame. Ma è stato veramente stra. Ma che cavolo. Sta pianta però è diversa no? Boh. Particolare. Ma se ho perso l'NPC. Allora tu per favore. Facciamo come prima. Distanza minimo. È distanza minimo. Stoptero qui. È beta. Blizzard. È vabbò. 9700 di vita. E come caspita. Tolgo da mezzo. Non lo tolgo da mezzo. Tu se magari. Non lo so. Ma dai un altro po' di metallo. Io apprezzerei. C'è nel senso. Potrei provare anche a killarlo però. Ci provo. Ma questo fa roba. Ti è chiuso e ripiglia. No vabbè. Lascia stanno. È fattibile. A parte che su colpisci. Tipo. Ti tira le esplosioni. Ma che cavolo. Beta. Crystal. Pteranodon. È il problema. Pulli. C'è assimilato vita. Questo già si può provare. Per esempio. Più che altro perché scappa. Perché sono due. Ma se è moltiplicato. Non è domesticabile. È addomesticabile. Ha una moltiplicazione di listro a geggi. C'è. Non lo so. Tu se mi dai una mano. Appi a sto coso. Tipo. Devi trovare un paio con l'arco. Almeno. De livello alto. Che. Insomma. Spero facciano. Un po' di danno. Chissà. Se ci sono anche i tier. Degli NPC. No. Ma mi darà qualcosa questo. In realtà no. Peccato. Peccato. Perché ragamano. E niente ragamano. Per il momento. Mi riportereste. NPC su. Azzattero. Anche sta carne. E direi che il caso. Do fa un po' di narcotico. Posso utilizzare comunque il falcetto. Per fare le bacche. Perché comunque. Se non sbaglio. Ce ne dava comunque. Una buona quantità. Non so. Tantissimo. Però. Ehi. Non male. Cioè guardate. Quell'optero. Ragazzi. Livello 15. E c'ha 6.000 di vita. No. 131. 6.700 di vita. Aspira però. Uai. Non mi spacca la zattera. E niente ragazzi. Per il momento è tutto. Spero che comunque. Questo video vi sia piaciuto. Se è così. Mi raccomando. Iscrivetevi. Lasciate un commento. Mi piace. E ci vediamo. Nel prossimo episodio. Ciao ciao belli. Ciao belli.